Benvenuti al nostro concetto settimanale di approfondimento, pianeta oggi report, dunque parleremo di ambiente, ambiente uguale a cultura, conteniamo dunque questo nostro filone informativo di approfondimento sul valorizzare il territorio come anche momento di conoscenza per cose nuove, momento culturale per gli studenti, per i bambini che vanno a scuola, in questo caso per i bambini che sono all'asilo perché alle porte di Venezia, precisamente a Favaro Veneto, nel grande bosco di Favaro Veneto è stato realizzato per la durata di una giornata un asilo all'interno del bosco, momento molto particolare per questi bambini che hanno conosciuto cose nuove, un ambiente nuovo e quindi ecco vediamo di rivalutare bene un po' tutte quelle cose che si erano ormai messe nel dimenticatoio o che si davano per scontato, molto spesso che vediamo che questi ragazzini devono fare 100 sport, sarebbe invece giusto concentrarsi un attimo nel farli imparare delle cose innanzitutto all'aria aperta, delle cose culturali e soprattutto tanto svago che a quell'età ne hanno veramente bisogno, verrà poi il momento che ci saranno altre problematiche. Intanto vediamo questi nostri servizi, noi ci vediamo subito dopo. Luca, una iniziativa davvero singolare, c'è un asilo nel bosco, nel parco, ecco ci puoi spiegare qualcosa? Sì, questa è una sperimentazione che è nata da un progetto che è partito nel novembre del 2015 all'orto di quartiere della città, un quartiere molto popoloso di Marghera dove è iniziato questo progetto di orto condiviso in cui abbiamo pensato di portare anche un'educazione all'aperto, un'educazione alternativa a quella che potrebbe essere nella scuola tradizionale. Da lì è venuta l'esigenza delle mamme di dire ma l'estate facciamo qualcosa tutti insieme in un luogo che abbiamo qui a Mestre che è il bosco, che è una meraviglia. Eccoci qui, adesso stiamo festeggiando le quattro settimane di sperimentazione che sono andate molto bene. Naturalmente qui c'è anche una tranquillità perché i bambini sono al sicuro, non vanno nel pericolo, non ci sono situazioni di questo tipo. Esatto, è proprio così. C'è proprio una metodologia che si chiama pedagogia del bosco in cui il bambino impara dall'esperienza a sperimentarsi negli spazi aperti, negli spazi naturali, impara ad autogestirsi anche il proprio tempo supportato dagli educatori che sono ovviamente formati. Ecco, il sito della vostra associazione per dare così un riferimento anche a chi ci segue e chi ci ascolta anche? Ok, allora... Chi ci guarda e chi ci ascolta? Allora, chi ci guarda ci può cercare su Facebook, noi siamo lì, con la pagina dell'associazione che è Ague Filò, mentre c'è una pagina dedicata proprio al progetto degli smeraldini del bosco, così si chiama questa sperimentazione di outdoor education, e appunto gli smeraldini del bosco. Dunque, oltre alla tua associazione ci sono anche delle altre che hanno organizzato questo, che comunque sono diciamo in sinergia. Ecco, qui infatti vicino a te vedo un'altra persona, ecco tu ti chiami? Buongiorno, sono Alicia Zanardo di Associazione Retusa. La nostra associazione ha fatto varie esperienze di outdoor education e condivide pienamente questa filosofia. Siamo state contattate dalla presidente di Ague Filò e dalle altre famiglie coinvolte in questo progetto, per realizzare appunto questo progetto Asilo nel Bosco e potergli dare una continuità anche nel prossimo anno d'inverno con le stagioni a venire. Ecco, quindi è una cosa che potrebbe essere da esempio anche per altre realtà in altre zone d'Italia? Assolutamente sì, per fortuna è da un po' di anni che inizia a parlarsene anche in Italia, quando ad esempio il modello nord europeo è da molti anni che è entrato all'interno della scuola pubblica, inizia a parlarsene anche in Italia, ce ne sono varie in giro per il centro Italia soprattutto e per il primo anno abbiamo la prima elementare statale ad Olbia. La cittadinanza come vede queste iniziative? Adesso devo dire con molta curiosità e voglia anche di essere coinvolti in questo progetto che gli permette di vivere in maniera diversa la città. Ecco, il vostro sito internet? www.associazionaretusa.com e molto più attiva la nostra pagina Facebook Associazione Aretusa. Quindi da come sento vanno per la maggiore social network? Siamo all'avanguardia i social network, vanno meglio dei siti assolutamente, sono più guardati, più seguiti. Grazie e buon lavoro a entrambe. Grazie. E la ringrazio. Allora, ecco, un momento anche culturale che il territorio offre a questi bambini? Beh, certamente diciamo che è stato l'incontro di persone che ha favorito tutto questo perché più o meno un anno fa mi sono incontrata con Chiare, così parlando e scambiando anche le varie esperienze. Lei aveva i suoi figli che ovviamente stanno molto bene anche all'aperto. Io venivo da un'esperienza anche di educatrice in un asilo nel bosco in Germania, un Waldkindergarten, questo già da un po' di anni. e diciamo, ci siamo dette perché non sperimentare questa cosa anche su un territorio dove c'è un bosco vicino ai centri abitati, quindi non è un bosco lontano da raggiungere, ma un bosco che tutte le persone possono usare ed è un bene comune che va usato anche in questo senso, quindi riportare anche su un piano educativo una riflessione di come usare gli ambienti, quindi non come un uso a compartimenti stagne, quindi non so, c'è la parte naturale vado lì, ma integrare proprio anche delle scelte di vita con appunto un accompagnamento dei bambini anche al conoscere la natura fin da piccolissimo e poi arrivare a rispettarla ovviamente attraverso la conoscenza. Tu mi hai nominato la Germania, qui in questi territori, ad esempio anche qui nel nord-est vediamo che sorgono ipe mercati in tutte le, o quasi tutte le zone verdi, ecco dovremmo invece valutare di più il territorio, proprio motivo per, motivo culturale anche per i nostri figli insomma. Ecco, ecco, allora io... Soprattutto anche valorizzare delle cose che già sono presenti, che sono appunto state curate nel corso degli anni e che molti ancora qua non conoscono, quindi veramente un invito a conoscere sempre di più questi luoghi. Ecco, tu Francesca mi hai nominato la Germania, ecco, queste iniziative all'estero sono più sviluppate, vedo dei cegni molto, ecco, molto... In generale, sì, molto più sviluppate e più radicate nella società, c'è una società che è più pronta e culturalmente è una cosa normale, non è una cosa di nicchia, sì, l'asilo nel bosco è un'opportunità tra le varie opportunità scolastiche. Ecco, Francesca che è stata in Germania, eccoci, puoi magari dire meglio come sono sviluppati lì? Beh, lì sono sviluppatissimi, io parlo di un'esperienza che ha già, nel senso, io l'ho fatta 12 anni fa e già al tempo, ce n'erano tantissimi adesso, si è sviluppata una nuova esperienza che è quella dei nidi, quindi addirittura ancora più piccoli già iniziano questa educazione all'aperto nel bosco e prendendo sempre spunto, non è un'invenzione tedesca, viene dai paesi scandinavi dove già anche lì da anni si era sperimentato anche con le fasce più piccole e perché no, è importante anche con quelle più grandi, insomma, non limitarlo alla fascia dell'infanzia ma portarlo avanti. Ecco, questo è molto interessante, è una novità, è un'iniziativa culturale che merita di essere tenuta in primo piano, in seria considerazione. Un'ultima domanda, i genitori cosa dicono? I genitori inizialmente alcuni molto, diciamo, curiosi, altri un po' perplessi, sia scettici perché, diciamo, lo spazio è aperto, intanto non si è abituati a starci così tanto, teniamo presente che qua i bambini stanno almeno otto ore, quindi non è poco. Però è bastato veramente qualche giorno perché diversi genitori si ricredessero sull'esperienza perché vedevano dei figli che tornavano a casa rilassati, proprio più tranquilli, pieni di stimoli, curiosità a cui rispondevano perché erano liberi di scoprire, di entrare in contatto anche con esseri viventi minuscoli che normalmente non si notano, oppure che la prima reazione è anche schifo, oppure non so, fare esperienza della pioggia. E quindi avere bambini che adesso dicono mamma piove quindi vado fuori perché è bello stare fuori sotto la pioggia, giocare, insomma, conoscere ovviamente con vari accorgimenti. Iniziare a valutare sempre di più quella che è la natura, che ultimamente con tutte queste cimentificazioni stiamo un po' perdendo. Eh certo, assolutamente sì. Grazie allora Francesca Coltellazzi, se l'ho detto bene. Coltellacci. Coltellacci, vedi, sapevo che prima o poi sbagliavo. E buon lavoro anche a te. Grazie, grazie. Riprendiamo da studio, è giusto per presentarvi anche l'ingegnere Alessandro Pattaro, che come sapete con il processo del contratto di fiume, ecco di questa cosa ne ha parlato, apre una parentesi, ne ha parlato anche una nota trasmissione di Rai 3 che è venuta proprio nell'Inter veneziano a far conoscere un po' questa nuova iniziativa, cioè valutare il territorio come appunto anche il momento culturale. Alessandro Pattaro era lì presente, il sottoscritto lo ha avvicinato, ascoltiamo una sua opinione in merito. Io sono molto contento di questa iniziativa qui, che a questo punto può diventare una sperimentazione importante per la fruizione di un bene collettivo, che è quello di un bosco che appartiene a tutta la comunità. Naturalmente Aretusa e Agoi Filò hanno voluto fare attraverso questa esperienza del bosco, dell'asilo nel bosco, ecco, svolgere un'attività pedagogica, quindi una pedagogia del bosco, ecco, che è un outdoor educational, che io poi, diciamo, di moto proprio, diciamo, di mio moto, ecco, moto meo, ecco, ho anche declinato come asilo nel bosco e lungo i fiumi, perché ritengo che attività come queste, ecco, siano del tutto inseribili, ecco, non solo compatibili, ma importanti da valorizzare all'interno di un processo decisionale pubblico, come quello dei contratti di fiume, che servono, uno, per il miglioramento delle componenti ambientali del fiume e del territorio, ma altre importanti ricadute, ad esempio, quello che possiamo fare in processi come questi, cioè processi di democrazia partecipativa come i contratti di fiume o i contratti di lago o i contratti anche di bosco, potremmo dire, cioè è quello di fare in modo che la comunità si rappropri dei beni, quindi si rappropri dei beni collettivi, quindi ci sia un processo di riappropriazione identitaria tra la comunità e i corsi d'acqua, i fiumi e il bosco e tutti i beni collettivi ecco che ci appartengono. Rivalutiamo il nostro ambito dove viviamo? Sì, sicuramente così, noi portando la comunità lungo i fiumi ne diamo anche più valore e riusciamo anche a svolgere un'attività che è anche di tutela, perché più sono le persone che naturalmente praticano i beni collettivi, maggiore è anche la sorveglianza e quindi il presidio che noi possiamo agitare nei confronti dei beni. Riprendiamo da studio, termina qui il nostro approfondimento di oggi, settimanale Pianeta Oggi Reporter, io ringrazio naturalmente tutti coloro che ci hanno rilasciato queste, diciamo così, queste spiegazioni, anche questo è un altro esempio che si potrebbe tranquillamente esportare in altre regioni d'Italia. Noi ci vediamo come sempre e ci sentiamo per coloro che ci ascoltano anche dalla rete in FM Stereo la prossima settimana sempre agli stessi orari. A presto! Grazie! Grazie! Grazie!